Siamo qui nella sala operativa dei Vigili dei Fuoco in stretto contatto col centro coordinamento soccorsi istituito presso la prefettura di Napoli dove è presente anche il presidente della regione Campania. Al momento in cui parliamo non ci sono morti accertati, c'è qualche difficoltà nell'operazione di soccorso perché le condizioni climatiche sono ancora molto impegnative, però stiamo mandando mezzi sia via mare sia per il sorvolo aereo, quindi confidiamo di tenere aggiornata durante la giornata la situazione. Sono in stretto contatto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con i miei colleghi ministri, insomma una situazione in evoluzione molto grave da seguire.